Oltre mille firme per chiedere all'ASL, a Venzano-Sumona-L'Aquila e alla Regione Abruzzo l'incremento dell'organico del reparto di oncologia dell'ospedale di Sulmona. La petizione sarà consegnata dal coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli, all'assessore regionale della sanità Nicoletta Verì, a margine della visita nel nuovo nosocomio. Il reparto è finito nel vortice della carenza di personale. Solo un'unità è rimasta in servizio con tutte le conseguenze del caso per la regolare attività del reparto stesso e per gli utenti. La Verì non solo ha preso in consegna la raccolta firme, ma ha chiesto al TDM un dossier su oncologia e i malati oncologici. Il Tribunale per i diritti del malato dunque si metterà immediatamente al lavoro per stilare la relazione di cui appunto ci ha parlato l'assessore alla sanità, consegnare appunto tutti i dati riguardanti i malati oncologici, quindi il numero dei malati non solo di Sulmona, ma di tutti quei malati che si trovano nei territori circostanti e confluiscono nel nostro ospedale. Ho parlato all'assessore della possibilità di elaborare un progetto insieme alla Federazione dei medici di medicina di base sulla radioterapia e un progetto che già appunto è stato accolto favorevolmente dall'assessore che appunto ci ha detto che sono ormai diversi giorni che segue le vertenze sul reparto di oncologia. Speriamo che oltre ai propositi poi ci siano delle soluzioni. E quanto ha spiegato la Puglielli che si è subito attivata per predisporre la relazione richiesta dalla Regione sui malati oncologici in modo tale da trasformare il reparto di oncologia in un reparto attrattivo e di eccellenza. Servono però degli interventi immediati per sopperire carichi di lavoro. La petizione, che conta oltre mille firme, è stata avviata dal TDM in collaborazione con il Comitato Spontaneo Malati Oncologici coordinato da Giuseppe Pergola.